Amici dello sportello del cittadino ci troviamo a Taranto precisamente in via Roma, via Roma quasi angolo con via Regina Margherita e vogliamo mostrarvi una situazione che è da prendere in considerazione. Non voglio procurare allarme però c'è da dire anche che la situazione va presa in seria considerazione e allora guardate questo palazzo era l'antico lo storico hotel albergo Bologna da decenni e decenni completamente abbandonato nel pieno degrado e nella piena incuria ma l'aspetto che veramente è raccapricciante e vedete proprio all'angolo lì della muratura, passatemi le espressioni tecniche improprie, non sono un ingegnere, non sono un architetto, non sono un geometra, vedete c'è una lesione d'angolo. Lo vedete, ripeto non so se si tratta di un muro portante, non so le conseguenze che potrebbe avere questa lesione, certo è qualche geometra mi ha sollecitato la mia attenzione dicendo state attenti a questa situazione. E io per un dovere civico, quindi un dovere di cittadino prima ancora che di giornalista sto evidenziando, sto denunciando questa situazione, verifichiamo. Ma al di là della lesione d'angolo che potrebbe o non potrebbe riguardare il muro portante c'è il fatto che questo albergo che chiaramente è di privati è assurdo che possa giacere in una situazione si fatta con le imposte finestre completamente divelte, addirittura aperte talvolta in alcuni punti e quindi immaginate gli insetti, i topi e quant'altro. Allora l'amministrazione comunale deve necessariamente mettersi in contatto con i proprietari perché deve essere messa in sicurezza la struttura. Non è normale che ci siano delle finestre così aperte. Considerando gli eventi atmosferici di questi giorni, le trombe d'aria, c'è da stare molto ma molto attenti perché immaginate questa struttura in muratura che è lesionata, potrebbe anche crollare. E quindi vediamo cosa è possibile. Si potrebbe anche procedere eventualmente con una ordinanza in danno, cioè mettere in sicurezza la struttura da parte del comune e poi ovviamente il comune rivalersi sui proprietari. L'aspetto che più mi fa pensare davvero raccapricciante è il fatto che stiamo parlando di una struttura meravigliosa in un punto meraviglioso e quindi sarebbe un ottimo investimento dal punto di vista imprenditoriale rilevare, acquistare questa struttura e farne davvero un gioiello in termini di turismo. Cioè un albergo che ha un fantastico affaccio al mare. Ecco queste sono le contraddizioni del borgo di Taranto. Un punto meraviglioso, un punto che in qualunque altra città d'Italia ci sarebbe stata una gara, una corsa per accaparrarselo, per fare business, per fare turismo. E qui invece a Taranto giace questa realtà nel più completo degrado. Non so cosa dire, ma i nostri imprenditori, se ci sono, sono imprenditori o prenditori? Fatemelo dire. E chissà, se i nostri imprenditori non si muovono, magari far intervenire sarebbe opportuno che chissà, anche qualcuno da fuori, ponesse la propria attenzione su questa realtà. Un fiore all'occhiello per il turismo a Taranto.